Oggi vediamo il Meizu MX5 con un bellissimo corpo in alluminio dai bordi arrotondati, 5,5 pollici, il suo display in risoluzione full HD, 20.7 megapixel con flash LED messo a fuoco laser, un lettore di impronte digitali che funziona perfettamente e un potente processore octa-core con 3 GB di RAM. Tutto questo fa pensare a un grandissimo telefono e così infatti è Meizu MX5, si conferma uno dei migliori telefoni in rapporto qualità-parezzo, però bisogna saperlo reperire in rete. Vediamolo insieme in questa recensione. Ed eccolo qua il nostro Meizu MX5 versione cinese, non vi faccio vedere l'unboxing perché c'è un video apposito, quindi se volete vedere cosa c'è dentro la scatoletta andate a vedere il video, Meizu MX5, 149,9 x 74,7 x 7,6 mm di spessore, 149 grammi. Non è molto pesante a tenerlo in mano anche perché è un display molto grande, 5,5 pollici full HD, 401 e ppi, ve lo avvicino immediatamente per farvi vedere la qualità che vi piacerà tanto. Questo display è molto molto bello, ben definito, ben illuminato, mi è piaciuto. Cosa c'è all'interno di questo telefono? C'è un processore Mediatek Helio X10 octa-core, 64 bit, 2.2 GHz, una RAM bella grande, 3 GB, i tagli di memoria sono fissi, quindi in memoria non si espande, 16 GB, 32 GB o 64 GB i tagli di memoria. Ovviamente cambierà il prezzo. Andiamo a vedere com'è costruito questo Meizu MX5, guardate qua, tutto in alluminio, bordi arrotondati, quindi un'impugnatura più morbida, un'impugnatura più piacevole, ottima la lavorazione della scocca. Sul posteriore la scritta Meizu, la fotocamera da 20.7 megapixel con flash LED e la messa a fuoco laser, c'è un pallino rosso che si accende quando attivate la fotocamera per mettere a fuoco l'immagine. Abbiamo in basso l'altoparlante da cui esce Viva Voce e la musica, ingresso per il cavetto micro USB, l'ingresso dalla voce con l'interlocutore, sulla sinistra lo sportellino doppio, ci sono due ingressi per le due nano SIM. Andiamo sulla destra, bilanciare per il volume, accensione blocco, sblocco in alto per finire, ingresso per le cuffie e secondo microfono per la riduzione dei rumori. Quindi questa è la composizione di Meizu MX5. Anteriormente fotocamera da 5 megapixel, ovviamente, LED di notifica piccolino, posto qua accanto all'uscita della voce in conversazione. C'è un pulsante fisico e touch che è questo, non ci sono i pulsanti al suo lato, quindi un pulsante solo di riferimento. Come funziona questo pulsante? Due funzioni. Lo possiamo premere e quindi tornerà sempre alla home principale, ovunque ci troviamo. Vedete? Lo possiamo, andiamo a vedere un esempio, lo possiamo toccare senza premerlo e torneremo indietro. Vedete? Quindi la funzione del pulsante indietro è svolta sempre dal pulsante home, ma solo sfiorandolo. Quindi una novità per i possessori e gli estimatori della telefonia Android. Menu a tendina, sempre il solito, quindi cerchietti di toggles con possibilità di espansione del menu doppio, quindi più toggles a disposizione. Abbiamo il settaggio della rete operatore in 2G, 3G o 4G, vibrazione, modalità non disturbare. Vi faccio subito vedere lo smart touch che io detesto, è un pallino che potete spostare in qualunque parte del display, un pallino che ha delle funzioni, vedete, se lo premete verso la sinistra, vi riporta a un'applicazione che scegliete voi, se lo portate in basso, porta giù il menu a tendina. Insomma, è un pallino che vi farà svolgere delle operazioni più velocemente, ma sinceramente mai lo userete, quindi ve lo dico. Potete anche dimenticarvi di quello che vi ho detto. Non c'è il drawer delle applicazioni, tutte le applicazioni sono installate in orizzontale, quindi c'è la casellina della pagina home, poi c'è la pagina A e la pagina B, C, D e quante ne volete. Sono solo quattro le applicazioni che vanno fisse qua nella dock, diciamo. Non c'è modo di aumentarle. Faccio un pinch per farvi vedere che si può aggiungere widget o allineare le icone verso in alto o verso in basso. Andiamo a vedere anche il menu delle impostazioni. In italiano, anche se la versione software in questo momento è la A, la versione, diciamo, cinese. Queste sono le personalizzazioni del menu delle impostazioni, icone che si possono scegliere fra Flyme o no. A me piacciono di più le icone non Flyme, sono più morbide nella forma. Le Flyme tendono ad avere forme un pochino più geometriche. Possibilità di cambiare i temi, non le ho scaricati, ma c'è dallo store, che è questo, della personalizzazione, ci sono tanti temi da scaricare con possibilità di cambiare sia la grafica, sia lo sfondo, sia la dimensione delle icone. Ora non sto a farvelo vedere perché è uno store che carica troppo lentamente. Gestione di due SIM. Vedete, in questo momento ce n'è solo una. Wi-Fi, Bluetooth, audio, dove è presente la modalità non disturbare, luminosità automatica o meno. La batteria, settabile in risparmio energetico, sezione bilanciata o prestazioni elevate. Mi soffermo un attimo sulla batteria per dirvi che non è removibile, ed è da 3.150 mAh, è una buona durata di questa batteria con uso intenso. Se arrivano a superare le tre ore di utilizzo in soldoni, ci farete una giornata e mezzo, ma non di più, perché ovviamente questo display e il processore sono dispendiosi di energie. C'è anche la possibilità di impostare l'impronta digitale. Con questa possibilità vado a bloccare il display, vado a rianimarlo e, vedete, lo sblocco è immediato. Quindi l'impronta di questo Meizu viene riconosciuta subito, c'è un grandissimo lettore di impronta digitale. Ve lo faccio rivedere per la terza volta, vado a rianimare lo schermo, vedete, si sblocca in un batter d'occhio. Quindi un'impronta digitale fantastica. Complimenti a Meizu perché questo lettore di impronte è superiore anche a quello di Galaxy S6. In poche parole vi sembrerà di avere un iPhone nello sblocco con l'impronta. Un ottimo lavoro da parte di Meizu. Possibilità ovviamente con l'impronta anche di registrare un altro dito. Io ne ho registrati due, vedete, anche in questo caso sblocco immediato. Andiamo ancora a vedere altri menu. Tastiere di sistema che non mi piacciono. Io ho subito installato la SwiftKey. Andiamo avanti. Tutte le applicazioni sono in questa sezione qui. Vedete, tutte in uso o in cache. E vediamo che di questi 16 GB che è questa versione ne abbiamo liberi all'accensione più di 11, diciamo. In questo momento per il mio utilizzo ne ho liberi 9,3 perché ne ho usati 2,4. Andiamo nella sezione interessante del touch. Risveglio con i gesti. Cosa molto, molto carina perché il display si può rianimare con il doppio tap. E anche questo è un doppio tap, signori, che funziona perfettamente sia nell'accensione, vedete, sia nello spengimento. Non perde un colpo. Ovviamente qui ho settato l'impronta digitale per farvi vedere come funziona. Possibilità di settare anche delle gesture. In questo caso, doppio tocco l'abbiamo visto, scorrere verso l'alto fa sbloccare il telefono, verso il basso notifiche, cambia canzone se sfogliamo in orizzontale. E i disegni, vedete, C, E, M, O, S, V, W, Z, fanno attivare una funzione. Io in questo caso ho selezionato la fotocamera disegnando la lettera C e senza alcun problema in un secondo si attiva la fotocamera. Quindi, tante gesture che sono veramente utili, secondo me, per personalizzare al meglio il vostro telefono. Iniziamo a vedere come funziona questo telefono. Direi che le foto, per essere a 20 megapixel, non sono da top di gamma. Andiamole a vedere. 20.7 megapixel. Il dettaglio è molto buono quando c'è la luce diurna, non ci sono problemi. Forse qualche difficoltà nel mettere a fuoco le immagini a distanza, vedete, ma questo è normale su ogni telefono. Guardate la bellezza di queste foto se vengono fatte con luce diurna, con sufficiente luce. Vedete anche voi, queste sono altre foto. Ecco, fotocamera che con luce artificiale tende ad avere qualche piccolo problemino di rumore, vedete. Comunque sia niente di trascendentale. Questa è l'anteriore, anteriore che secondo me non è niente di che foto fatta su una parete bianca con luce artificiale. Vedete, non è male, ma ci sono i top gamma di oggi come S6 oppure LG G4 che battono e alla grande questo Meizu MX-5. Altra foto fatta con luce diurna, vedete, dettaglio c'è, vi ripeto, non è una fotocamera che secondo me è degna di un 20.7 megapixel. Volevo farvi vedere, questo è un altro dettaglio delle foto fatte di giorno, ovviamente macro perfette, non sto nemmeno a spendere parole. Volevo farvi vedere anche il flash, come illumina l'ambiente, vedete, un ambiente piuttosto illuminato e quindi foto veramente degne di nota. Se dovessi dare un voto a questa fotocamera darei un 7.5, proprio perché ormai mi sono abituato alle fotocamere dei top gamma del 2015, quindi non riesco a emozionarmi vedendo questa fotocamera. Andiamo a vedere anche le opzioni, se io tocco qua abbiamo diretto accesso a queste personalizzazioni qua, che sono le classiche che vediamo in ogni telefono, oppure possiamo semplicemente sfogliarle, quindi o le sfogliamo o accediamo direttamente come abbiamo visto. Il menu delle impostazioni solo in verticale, se io giro il telefono non gira un bel niente, non so se Meizu vorrà correggere il tiro con i prossimi aggiornamenti. Timer, indicatore di livello, griglie HDR che è solo manuale, non è automatico, mannaggia perché, non l'ho capito, dimensioni foto che vanno o media in 16 noni o grande in 4 terzi. Quindi in 4 terzi vedremo una fetta di display e la foto in 4 terzi. Dimensione video 720p fino a 4k in 16 noni, quindi questo bene o male è l'impostazione della cam con rotazione immediata della fotocamera, gli effetti che sono accessibili direttamente e molto velocemente, possibilità di attivare o meno il flash. Anteprima immagine e registrazione video. Andiamo anche a farvi vedere la messa a fuoco laser che, ahimè, ora non è, vorrei andare troppo vicino. Vedete che non è fulmine, ha qualche difficoltà nella messa a fuoco, quindi dovessi dare un difetto alla fotocamera di questo Meizu MX-5, direi proprio questa messa a fuoco laser qui che credo sia un problema risolvibile con futuri aggiornamenti software. Andiamo a sentire anche come suona il telefono, questa è la sezione della musica, andiamo a vedere i brani. E sentiamo che l'audio è bello alto su questo Meizu MX-5, ovviamente non possiamo pretendere i bassi da HTC con casso stereo, ma è un audio veramente sopra la sufficienza, a livello di intensità mi è piaciuto molto. Parliamo anche del multitasking che richiama le applicazioni, vedete con questo swipe, e se riporto giù il menu piccolino vengono cancellate tutte le applicazioni in background, il sistema gira molto fluido, non ci resta che vedere la sezione del web. Andiamo su Google, andiamo sulla Repubblica, sul sito della Repubblica, Firenze, vedete anche l'apertura molto veloce del sito, però gli chiederò la versione classica, in modo da spremere di più questo processore, e guardate anche voi la fluidità di questa navigazione. Vado anche col pinch, vedete, molto molto buono, andiamo anche ad aprire una notizia, vediamo l'apertura, perfetta direi. Quindi un browser che funziona molto bene, possibilità di ricaricare la pagina, guardare quanti pagine ho in esecuzione, aggiungerne un'altra, in questo caso ora le pagine sono diventate due, vedete, o vado su questa o vado su questa e si apre molto veloce. Quindi, che dire, è un telefono che gira molto molto bene, avrete visto sicuramente nella recensione la fluidità di questo Meizu MX5, che ci ricorda un po' i tempi di HTC o di iPhone, quindi non lagga, non scatta, tutto gira molto molto bene, con una velocità ottima direi anche nel passaggio fra le applicazioni, vedete anche qua le animazioni, guardate, vedete, tutto gira molto bene, il multitasking abbiamo detto è questo, possiamo togliere singolarmente le applicazioni oppure tutte. Bene, cosa dire in definitiva di questo Meizu MX5, batteria molto buona, abbiamo detto 3 ore di display e un giorno e mezzo di utilizzo se usato in maniera medio-intensiva, una velocità di sistema molto buona, foto sopra la media, ma non ottime, ripeto, se volete telefoni dalle ottime foto ci sono G4 e S6 che le fanno sicuramente meglio, 3 giga di RAM si sentono, mai un lag, mai un impuntamento audio buono, wifi prende molto bene, dual sim LTE, un display veramente ottimo, una costruzione ottima, mi è piaciuto tantissimo questa scocca unibody con i bordi molto molto morbidi, è un piacere tenere questo Meizu MX5 in mano, oltretutto questo bel display vi farà vedere delle bellissime immagini. Detto questo, quanto costa Meizu MX5? Abbiamo visto che il prezzo varia a seconda dei tagli di memoria, questa è la versione base, 16 GB, versione cinese, acquistabile su Grosso Shop, ad un prezzo all'incirca di 300 euro più spedizione, ovviamente, più saliamo con i tagli di memoria più aumenterà il prezzo. Che dire ragazzi, con 300 euro io non so consigliarvi un telefono migliore, quindi se volete cimentarvi nell'acquisto di questo telefono, in questa configurazione qui, andate su Grosso Shop e ordinate questo Meizu MX5. Lo troverete sicuramente anche su altri shop, ma ovviamente il prezzo sarà leggermente più alto. A voi la ricerca del prezzo migliore. Bene, con questo direi che è tutto, se avete domande scrivetele qui sotto il box del video, io vi do appuntamento alla prossima recensione sul canale del Chasti. Ciao ragazzi!